Questo passo, Romani 14, 8, 9, in particolare l'8, non poteva essere lasciato così, bisognava mettere Geova, tradurre Signore, il Chios. Chios che troviamo infatti nell'interlineare, nel testo greco curato dalla Watchtower, in Romani 14, 8, 9, 8, vedete abbiamo Chios, the Lord, ma non poteva rimanere Chios, doveva essere sostituito da Geova, che andrebbe anche bene come Yahweh, se avessero lasciato Yahweh in Chios, ma perché? Perché uno ne abbiamo di Signore, è quello che ogni volta Paolo ci ricorda. Però il problema è che poi in Romani 14, 9, abbiamo appunto lo stesso Paolo che ci ricorda che Cristo è il Signore sia dei morti che dei vivi, perché sia che viviamo, sia che moriamo apparteniamo a Lui, al Signore Cristo, Gesù, ma qui non poteva rimanere Cristo. Lo stesso Paolo invece ci ricorda che noi siamo spinti dall'amore di Cristo e non possiamo fare altro che vivere per chi? Per Geova, ma per colui che è morto per noi ed è stato risuscitato. E' per lui, per Cristo che viviamo, perché Cristo è Signore, Cristo è Signore, non vivo per un angelo, ma vivo per il Signore, carissimi. Basta mettere insieme questi due brani, due corinzi, cinque, quindici e romani, quattordici, otto, nove, per capire che qui l'attore di guardia doveva e poteva lasciare tranquillamente Signore per non forviare il lettore e pensare che qui stia parlando del Padre e qui stia parlando del Figlio. E' per Cristo che viviamo e moriamo, tant'è vero che poi Paolo dirà quella bellissima espressione di Filippesi 1,21 Per me, infatti, vivere è Cristo, vivere è Cristo. Grazie sempre dell'ascolto.